salve a tutti ragazzi questo nuovo episodio di spiro 2 è come ben sapete affronteremo un livello più che per chi conosce spiro 2 questo dovrebbe essere uno dei livelli più pazzi di sempre forse capirete meglio di me dico perché questo è uno dei livelli più pazzi di sempre se avete già capito ciao spiro sei qui per la festa vero temo sia annullata visto che quegli stupidi terraformisti hanno fatto eruttare il vulcano ok cominciamo a sto livello eh meglio stare a tentarsi questi stronzi qui porca troia iniziamo bene sto livello eh lo dicevo che questo è il livello sto guardando sto tizio che balla come uno scemo capitana se lo becca sto deficiente eh sto giocando sto giocando da schifo sto livello scusate 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 che sto giocando da schifo sto giocando da schifo sto giocando da schifo se mi aveva affanculo so che sti tizi sono ok ricopriamo spark ok non sono nemmeno fortunato speravo di recuperare almeno qualche vita so che i livelli iniziano a diventare difficili andiamo se qua sono andati forse ieri no guardate ben presto il riccone ci fotte i ratti eh ci bruciamo il culo anche in questo episodio grande andiamo presto di nuovo spark via mamma meno male meno male che abbiamo preso il secco che male se moriamo e torniamo dall'ultimo secco e stanno iniziando a stanno iniziando a diventare piuttosto lì di qua dovrebbe esserci hunter per il fatto della sfera qui dovrebbe esserci una stita con hunter per ottenere una sfera dovrebbe esserci una stita piuttosto difficile dovrebbe esserci una stita con hunter per ottenere una sfera a vento se la vacca è fatta ci potremmo anche provare la vacchetta la vacca è fatta ci potremmo anche provare la vacca è fatta no niente oh abbiamo recuperato una vita bene adesso si chiamere culo questo è uno dei livelli più pazzi metti a trovare dei fauni che li metteranno a ballare come dei cretini c'è di nuovo guarda chi si rivede ok di qua vediamo un bel po' di video in più bella scoppa sciata di far falle e mi faccia sto cazzo ok scusate per la parolaccia ma ci sto ok lì mi faccia sto cazzo a quadrato non so dove andare che vuole andare da hunter per una sfida ma che non so come sono andata di qua ok l'abbiamo fatto ora faremo il culo da hunter ok ah doppia sfera qua ci sarà va diventisti parecchio qua ok ciao ok 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 Grazie a tutti. Dai, dai. Mamma mia, lo sto proprio stracciando. Ah, ce l'avevo quasi fatta. Eh, volevi? Voleva prendere il cristallo. Ecco, ce l'abbiamo fatta buona la prima. Ma arriva più difficile. Ne vuole accogliere quindici. E ancora ti darò un'altra sfera. Questa volta arriviamo a quindici. Sono pronto. Ok. Il nostro caro amico Hunter vuole la guerra. A quanto pare. E guerra sia. No. Ok. Sarà per fottermi. Ok, le ho fatto io il cristallo. Grande. Siamo già 5, eh. Sto andando più veloce del previsto, eh. Questo episodio. No comment. Oh, ho fatto tutto il cristallo, eh. Mi dispiace. Davanti. Ma devo ottenere la sfera e mi serve per andare alle spiagge del drago. Vai. No. Fottiti. Vabbè. Via. Dai, dai, dai. Manca poco, manca poco, manca poco, manca poco. Siamo a 14. Ok. Davvero bravo. Dovrò escogitare dei giochi più difficili. Per ora, prendi questa sfera. Te la sei guadagnata. Ok. Siamo pure a continuare a fare casino. In giro a conori magma. Guarda che questo è proprio le... Dicevo io che... Il livello più pazzo di tutti. Di Spiro 2. Ci sono proprio dei fauni pazzoidi. Anche dei fauni dementi. Ovviamente. E' uscita un'arma ma... No. Un'arma che aveva il spagno ma chi se ne f***e. No. Ah, per cadere. Ma tu c'è un'altra gemma. Un'altra gemma. Non è riuscire a fare... Non è riuscire... Oh fuck Qua ci tocca pagare la mancia Ma sono fottuto d'ora L'ascensore nella stanza qui accanto Porta fino al vulcano Potrai usarlo ogni volta che vuoi Dopo un piccolo E' un piacere fare affari con te Per scendere di sotto non devi far altro Che salire sull'ascensore A te 200 gm se ne vanno Viglio sto Nonostante Vuole fartecci quasi tutto l'esempio Stiamo raccogliendo con tanta fatica Ok non so quanti minuti sto registrando Ma vabbè Dobbiamo chiudere proprio quel tappo Non so come fa un tappo A bloccare il magma Ma vabbè La logica di spirito tua Vaffanculo mi ha colpito in pieno Sta palla Sta palla di fuoco Come cacchio si chiama S'ho proprio cagato in mano Siamo attenti qua Siamo attenti qua Siamo attenti qua Aiutiamo 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 Grazie per aver rimesso il tappo al vulcano Spyro La situazione cominciava a farsi scottante A proposito Eccoti un talismano L'avevo messo da parte per la festa Ma tu lo meriti più di me Eh ok Vabbè non è finita qui Vabbè che abbiamo eseguito il talismano Ma non è finita qui Io sono Attraggermelo Ehi Spyro Arrivi giusto in tempo per la festa Cioè lo saresti se i mostri di lava Non ci avessero rubato i cappellini Gli cappellini Non sarà lo stesso senza i nostri cappellini Se li abbiamo abbatterli Ah però con Con la roccia lavica Dovremmo abbatterli Che secondo me sono immuni a fuoco Questi qui Questi stronzi E infatti Porca droga Porca droga A quadrato E porca droga A cubo Mamma mia C'è un video più sclerante di così Quando lo vedete più Ok dai Concam Concentration Mori Mori Simpari Maltrattare Mi spalgo No Cacchio Potenziamento Supervolo Non avevo Peso in considerazione Perfetto Ok via Mori Stronzo Quante volte l'ho detto Porca droga Porca droga C'è un po' di recuperare la vita di Spax Sennò sono fottuto e devo Fare da capo Non so quanto tempo Sto mettendo No Stai esaurendo Potenziamento Supervolo Potenziamento Potenziamento Spesso tocchio Il potenziamento Supervolo Ok ricarichiamo Ricarichiamo Il potenziamento Supervolo Non so Cazzi Ok dai Mori No Mi tocca Di nuovo Ricarichiamo Il potenziamento Supervolo Ne mancano pochi Ce l'abbiamo Fatti Non è che fa ancora Calda Siamo verso la fine Di settembre Caldo Pesissi ancora Via Magano solo due Ok L'atto è sotto Di me Non so Dove è l'ultimo Mi tocca Cercarlo Qui Per sicurezza È meglio Ricarichiamo La vita di Spax Non si può Mai capire La sicurezza Prima di tutto Vaffanculo Sono Sono bruciato Di nuovo Il culo Come un Il culo Dragonico Grazie Spiro Hai salvato La festa Tieni Questa era Finita In mezzo Alle palline Al formaggio Stavo Per scheggiarmi Un dente Non è Cotto Nemmeno Che c'era Una Sfera Ok Mezzo Vabbè Ora con gli altri Sfera Eh spero Devo dire Gemme Non so dove sono No Stavo per cadere Di nuovo Come un coglionazzo Eh non so Eh siamo già Quasi al 50% Ci avviciniamo Siamo Siamo Quasi avvicinando A 100% Porco E vaffanculo Che sono Se non faccio Una morte In qualche episodio Non sono contento Ho Pesso Una vita Vaffanculo Tutta colpa tua Mi sto facendo Il culo Per salvare Una festa Ma sta Scendo Eh già Sfera Devo dire E mi Inchia Saso La Riccola Ecco La Qua Ok Abbiamo Completato 100% Sempre Se riesco A scendere Qua Ok Grande Grande La Comparato Al 100% A questo livello Andiamo Prima Che Se ne Vaffanculo Sto Potenziamento Superbolo Ok Ok Alla prossima Ciao mum Grazie a tutti